Ciao ragazzi della comunità Connection, il messaggio che vorrei mandarvi questo giorno è il messaggio che ho imparato in questi ultimi tempi, tempi difficili che ho dovuto vivere, però ho imparato un amore di Dio diverso di quello che ho sempre vissuto, quindi un amore che non ho meritato, non ho fatto niente per meritare questo amore e Dio mi ama, ti ama e ci ama con un amore veramente difficile da spiegare e l'unica cosa che possiamo fare è sfruttare di questo amore, di sapere che lui ci ha dato suo figlio per perdonare tutti i nostri peccati, per morire per noi, per risuscitare, perché? Se non abbiamo fatto niente, se non abbiamo meritato, ancora se viviamo una vita così, con i valori giusti, con tutto quello giusto, non saremmo giusti di vivere questo amore, però Dio ci ama, lui parla con me, che mi dice di stare tranquillo in qualsiasi situazione, perché lui ha il controllo di tutto, questo messaggio di pace, di sapere che Gesù sta nel controllo di nostre vite, di sapere che Dio ci ama e non ci vuole male, e sapere tutte le volte che abbiamo una persona da cui andare nei momenti difficili, nei momenti di confusione, nei momenti di dubbi, e sapere che questo Dio ci darà una mano, ci aiuterà. Oggi sono in campo, domani non sono in campo, però posso sapere sempre che Dio è con me, sia in campo, sia fuori dal campo, sia in casa, sia nel lavoro, in qualsiasi posto, Dio è con me. E questo è il messaggio che vorrei trasmettere oggi, che questo Dio di amore ti ama e sfrutta di questo amore. Un saluto! Un saluto!